Ciao a tutti, benvenuti su Goldi Unicorn Artarot. Oggi il titolo del video molto particolare è Ecco la sorpresa da te tanto attesa. Sarà svolto in un modo un po' particolare. Andremo subito a vedere qual è la sorpresa, i segni che ti anticiperanno che sei sulla strada giusta e così via. Quindi le stese di oggi sono due, la stesa dell'unicorno fucsia e la stesa dell'unicorno bianco e andiamo subito ad incominciare a vedere qual è la sorpresa e vi ricordo naturalmente di guardare questo video per ispirarvi nella vostra manifestazione. Allora questo è un supporto che ho usato perché non stanno in piedi se no e andiamo a mettere questo fucsia qua. Ecco allora andiamo ad incominciare a vedere subito qual è la sorpresa. da te tanto attesa. Andremo a vedere tante cose, anche i segni, i zodiacali, i numeri. Allora intanto voglio mettere questa e questa. Poi ci aggiungo naturalmente ancora altre carte. Però fluiscono da te intanto quattro direzioni, mi viene da dire, no? Con questi quattro bellissimi cavalli. Quindi c'è qualcosa che si sta proprio preparando e concentrando su di te, come se te avessi chiamato un po' tutti gli elementi, no? Perché questi così dipinti rappresentano anche i quattro elementi. Quindi è come se tu, consciamente o inconsciamente, avessi fatto un un qualcosa che porta l'attenzione su di te delle vibrazioni energie dell'universo. E devo dire che stai per entrare davvero in un periodo molto di centratura tuo, dove proprio riuscirai ad avere proprio una visione dall'alto. Qui abbiamo proprio un uomo su Menhir, quindi riuscirai ad avere una visione chiara di tante cose, proprio perché confluiscono delle forze, delle energie intorno a te. Andiamo a vedere di più su questa sorpresa. di nuova energia che si muove. Quindi innanzitutto, andremo poi a vedere bene nel dettaglio, però la cosa principale è che tu avrai tantissima energia. Quindi questa energia ti potrà servire sia per l'amore che per il lavoro. Quindi ci saranno, diciamo, delle novità nella tua vita. Quindi potrebbe essere anche arrivare a un obiettivo, no? Che potrebbe essere appunto amoroso o qualcosa. È come se ti venisse data dell'energia che tu userai a tuo piacimento. Quindi questa energia ti potrà portare a una promozione, a un lavoro nuovo, ma ti potrà portare anche a un incontro o all'amore. Il punto cruciale di tutto questo è che come fossero delle energie che vanno su, queste due energie vanno su una cima di una montagna dove ci sei tu che a un certo punto decidi col tuo libero arbitrio la tua vita. E infatti qui è l'inizio di un viaggio, di un viaggio nuovo che riguarda proprio la tua vita. Quindi si può dire che questa sorpresa sarà proprio un cambiamento tuo, energetico e di vibrazione. Ti aspetta proprio un lungo viaggio, un bellissimo lungo viaggio e una nuova vita. Adesso tu senti ancora un pochino di stabilità, ti sembra quasi impossibile che riuscirai ad avere tutta questa energia, però ricordati una cosa. Quando noi vogliamo manifestare qualcosa abbiamo bisogno di tanta energia, perché se noi siamo bassi di energia e mancanti di entusiasmo facciamo fatica a manifestare quello che vogliamo. Quindi per manifestare abbiamo sempre bisogno di tanta energia. Anche se magari non lo sappiamo, però le cose favorevoli si attirano anche con l'entusiasmo. Quindi mi viene da dirti che uscirai da questa instabilità in cui ti senti adesso. Anzi addirittura qui c'è anche un bambino neonato che che è un po' disattento in questa immagine, no? Quindi come dire che adesso o ultimamente tu pensi di aver fatto degli errori. Ma ricordati che tutto è necessario, quindi anche gli errori. Poi col senno di poi naturalmente ce ne rendiamo conto. Ecco, quindi diciamo che questo momento di difficoltà è finito. Questo momento di difficoltà è finito perché tu avrai la chiarezza delle idee e l'energia per vedere. Qui parla anche di amore naturalmente, no? Quindi io ti ho detto userai tu l'energia che vorrai, però qui parla proprio anche di di un'attrazione per qualcuno. Quindi qualcuno potrà incontrare qualcuno di nuovo, qualcuno del passato. Ecco, senz'altro tutto ciò che ti arriverà è fatto di abbondanza. Adesso io intanto, visto che qui hanno già risposto ampiamente, quindi tu avrai la scelta, tu sei l'interprete principale del tuo viaggio, no? Quindi alle volte noi ci focalizziamo sugli altri, invece tu sarai focalizzata su te stessa. Quindi questo qui parla proprio specificatamente anche d'amore. Diciamo che oscilla un pochino di più sull'amore, un amore passionale che tu hai ritenuto pericoloso in certi momenti, ma non necessariamente perché tu stai aspettando qualcuno dal passato, anche naturalmente se ti riferisci a qualcuno, ma anche in generale, come se tu dicessi adesso ci vado piano prima di lasciarmi andare completamente all'amore. Quindi avrai diciamo proprio questa visione, questa vibrazione, questa energia chiara che ti darà la possibilità di riuscire nel tuo progetto, qualsiasi esso sia. Quindi adesso io ti voglio dire sia dei numeri che diciamo dei segni, proprio segni zodiacali, no? Quindi prima di darti il segno voglio dirti che se tu stai pensando l'amore, è bene che tu guardi oltre al segno che ti verrà dato, guardi anche l'ascendente, perché potrebbe essere qualcuno che magari ti porta un messaggio, no? Ma anche Venere che è il pianeta dell'amore. Quindi per esempio se tu sei per esempio un cancro e hai la Venere in gemelli, è giusto che ti focalizzi anche dove è situata la tua Venere il pianeta dell'amore, ecco. Perché è sempre bene guardare, no? Cioè tu amerai se hai la Venere in gemelli come sarai predisposto naturalmente, avrai delle influenze molto forti, ecco. Quindi vediamo il primo segno che viene, l'acquario. Quindi l'acquario sarà quindi corrispondente al tuo segno, al segno di qualcuno a cui pensi, all'ascendente, alla luna, ma anche alla Venere, eh? Quindi è facile trovare su internet dove si ha la Venere se si ha una data di nascita, eh? Andiamo a vederne tre disegni principali, poi potrebbero non essere solo questi tre, sono indicazioni queste che mi piace darvi, eh? Quindi qui poi abbiamo una riete, quindi ricordiamoci, potrebbe essere anche una persona che ha molte enfasi su una riete, molti pianeti in ariete, poi magari è di un altro segno, eh? Quindi ricordiamoci appunto anche la posizione della Venere, Venere in ariete, o Venere in acquario, segno, ascendente, e il terzo segno è proprio il cancro. Quindi questi sono, diciamo, i segni, diciamo, che potranno avere un collegamento con questa nuova sorpresa che ti arriva, no? Quindi tu potrai avere a che fare con queste persone o queste persone potranno essere anche delle amicizie che ti danno magari l'indicazione chiara per uscire da questo stato di difficoltà e raggiungere proprio quello che vuoi raggiungere, perché questa carta dice proprio che tu sarai davvero lassù in cima con energia, con tutta questa energia che è venuta con questi quattro cavalli. Qui naturalmente è il carro questo, però io oggi voglio interpretarlo un po' in un senso magico questo, no? Quindi adesso ti do anche dei numeri che tutti questi segni ti anticiperanno che sei sulla strada giusta, no? Quindi dal segno zodiacale una persona o un segno che vedi, un libro anche, non è necessario che è sempre una persona di quel segno, no? Potrebbe anche essere che tu ti ritrovi davanti quel segno che ti è un'indicazione per la tua strada giusta. Allora, il primo numero è un 3. Adesso io ci abbino un altro numero, che è il 2. Quindi qui abbiamo un 3, un 2 e un 5. Ecco, questi numeri ti anticiperanno che sei, diciamo, sulla strada giusta. Adesso vado a vedere la vibrazione precisa di questa sorpresa, nel senso che andiamo sempre ad approfondire. Allora, questi sono i segni. Andiamo sempre ad approfondire la persona e poi cosa cambierà anche per te. Allora, quindi sappiamo che qui c'è un tuo successo a scelta tra lavoro e l'amore. e vediamo, eh? La vibrazione precisa. Beh, questa è la carta dell'abilità, quindi dell'inizio anche proprio di qualcosa, quindi come sono tutte sincroniche, no? L'inizio di una nuova vita. Sappiamo che tu in questo momento non credi a questo inizio, però ricordati che se tu hai fede nelle vibrazioni, nell'energia, questo ti dà una spinta in avanti, è quindi l'abilità di scegliere tra l'amore, il tuo successo personale, tra l'amore e il lavoro. Potrebbero essere anche entrambi, perché no? Ma diciamo che in questo momento c'è qualcosa dentro di te che vuole fiorire, quindi non necessariamente appunto deve essere sempre l'amore, no? Alle volte l'abilità potrebbe anche appunto riguardare il lavoro, quindi tu sentendoti così a posto col lavoro potresti anche, diciamo, poi avere successo anche nell'amore, perché hai raggiunto la tua stabilità. Qui c'è proprio un grande inizio di vita, tu veramente sarai il giocogliere della tua vita. Vediamo sempre questa vibrazione. Ecco, io avevo scelto i pianeti, però è venuto qui il punto di fortuna, quindi, come dire, ti accadrà una grande fortuna, prendo un altro pianeta, no? Più chiaro di così. Allora, e Urano? Urano ci rappresenta proprio anche una forbice che può tagliare col passato, quindi puoi tagliare davvero con delle credenze del passato, per esempio, no? Urano porta anche dei nuovi inizi, quindi è un pianeta molto potente che quando arriva stravolge la tua vita e ha tanta energia, quindi diciamo che qui è proprio una stesa di base sulla, sull'energia, sulla tua energia che cambia. Ti prego di avere fede perché la mancanza di fede fa rimanere tutto nell'immobilismo, eh? Quindi adesso vado proprio a vedere che cosa cambierà, eh? Per te. Allora, finalmente tu riuscirai ad avere, diciamo, quell'energia che non sarà più incerta, abbiamo detto, ma riuscirai con calma a vedere, a fare tutto ciò che hai in programma. Quindi vediamo un po' di più. Di nuovo la fortuna, eh? Quindi questa è una stesa davvero che parla di fortuna. La vita può cambiare anche in un minuto, è così che ti può accadere, sempre se ti lascia andare a queste energie meravigliose dell'universo, eh? Qui, secondo me, tu hai vissuto davvero un momento difficile e verrai raccolta. Qui c'è anche un angelo che arriva proprio a svegliarti da questo tuo torpore, eh? Naturalmente molti di voi stanno pensando all'amore, ricordano l'amore o di un lontano passato, di un recente passato, quindi molti di voi vogliono realizzare l'amore. Però io vi voglio dire che queste carte dicono anche di focalizzarvi anche sui vostri talenti e sul vostro lavoro, eh? Quindi diciamo che vediamo un po' sull'amore, visto che si concentrano adesso sull'amore, quindi vogliono darmi un messaggio specifico sull'amore. Qui parlano di un disappunto, quindi tu non stai credendo in questo momento all'amore, forse ti stai focalizzando troppo sul passato, eh? Perché la mancanza di fiducia arriva dal passato, eh? È qualcosa che si è instaurata dentro di te. Quindi guarda, qui abbiamo proprio la carta della sorpresa, il titolo di questo video, ecco, la sorpresa da te tanto attesa, ma anche qui, come dicono, come dice questa carta, ci sono proprio delle sorprese. sempre se accogli queste nuove vibrazioni per te. Quindi, secondo me, avrai delle grandi sorprese tu nell'amore, eh? Proprio delle sorprese che attualmente, con la vibrazione, diciamo, in cui sei messa adesso, potresti non vedere. Invece, come diceva qui all'inizio, tu vedrai. E quindi avrai delle grandi sorprese in amore, grandi soddisfazioni. E ricordati che potrebbe anche non essere qualcosa del passato, potrebbe essere qualcosa di nuovo. Però, se tu veramente vuoi concentrare tutte queste energie su un amore del passato, che ben venga. Bene, carissimi, io vi ringrazio dell'ascolto e passo alla stesa numero due. Ciao a tutti. Eccoci alla seconda stesa per chi ha scelto l'unicorno bianco, anche per voi. Andiamo a vedere questo video molto particolare, dove vi darò anche i segni, i zodiacali, i numeri, i pianeti. Allora, andiamo un po' a vedere qual è questa sorpresa per voi, eh? Allora, vediamo subito qual è questa sorpresa da te tanto attesa. La sorpresa da te tanto attesa. Incominciamo con queste due carte, poi ce ne aggiungiamo delle altre, eh? Allora, qualcosa che riguarda proprio te. Allora, che tu sia uomo o che tu sia donna, qui riguarda la tua parte femminile, che è insita in noi, naturalmente. Alle volte il maschile e il femminile sono in squilibrio, alle volte sono in perfetto equilibrio. Qui dicono che ci sarà un'enfasi nella tua parte femminile, quindi accoglienza, maternage, calore, quindi tutta la tua parte femminile, ricettività anche, no? Quindi ti ritroverai a essere più morbida, mi viene da dire, no? Come l'energia yin e l'energia yang. Tu, questa è l'energia yin, quindi un'energia molto fluida che ti arriva. E di nuovo qui abbiamo la conferma. Quindi la maggior parte di voi sono donne che guardano questi video, no? Però, naturalmente, anche gli uomini hanno questi aspetti, no? E devono, appunto, essere in equilibrio in noi. Quando sono dentro di noi in equilibrio, riusciamo anche ad avere delle relazioni equilibrate. Qui comunque si vede che l'enfasi è su di te, sulla tua forza, no? Qui abbiamo proprio anche segnato, tra l'altro vi volevo dare, e vi darò i pianeti, e poi comunque qui abbiamo segnato proprio il pianeta Venere, eh? Quindi qui c'è qualcosa che sta per nascere da dentro di te, eh? Qui c'è anche proprio una gravidanza. C'è qualcosa... Ora, la gravidanza rappresenta la nascita di qualcosa di nuovo. Quindi c'è qualcosa da dentro di te che vuole uscire fuori, come un parto. È tempo che vuole uscire fuori da te questa cosa, eh? Quindi la sorpresa nascerà da te stessa o da te stesso. La sorpresa di trovarti, di auto percepirti diversa. Accadrà probabilmente un evento per cui questo accadrà, ma questo evento slatentizzerà qualcosa che hai già in essere, che vuole uscire. Perché la gravidanza vuol dire che tu è già... sono già mesi che stai pensando a questo qualcosa. Qui parla di una scelta, soprattutto sull'amore, eh? Quindi qui, a differenza della stessa precedente, si concentrano già subito sull'amore. Quindi qui mi viene da dire che l'amore è soprattutto ed inizia per te stessa, eh? Per te proprio, eh? Per te stessa. Questo amore rivolto a te, questo qualcosa che vuole uscire da te, che è tanto, tanti mesi, no? I mesi della gravidanza, è tanti mesi che tu stai focalizzandoti su qualcosa e finalmente riuscirai ad avere, diciamo, la forza anche magica, mi viene da dire, no? Qui abbiamo anche lo sciamano, quindi la forza anche magica di riuscire nel tuo intento. Qui ci sono energie molto forti, energie molto spirituali, che parlano anche di una relazione, parlano di un amore o di una relazione. Comunque sia se tu stai aspettando una relazione nuova, qui c'è proprio una grande possibilità. Se stai invece aspettando qualcuno del passato, mi viene da dire che tu vedrai questa persona in un modo totalmente diverso e quindi la persona a cui stai pensando ti vedrà in un modo completamente diverso. È come se scendesse su di te la luce della saggezza, di una saggezza che è sempre stata dormiente, ma adesso viene fuori. E di nuovo la carta dell'amore. Qui c'è proprio un grande amore che è dentro di te, la gravidanza, abbiamo detto, che sta per uscire fuori, no? Quindi questo amore, abbi fede, perché tu sai dare tantissimo. Quindi la persona o le persone a cui pensi non potranno non essere attratte da te, se tu dai il meglio di te. Quindi qui tu darai, sei pronta, stai per dare il meglio di te, prima di tutto a te stessa. E riuscendo a sentirti bene con te stessa, con la tua femminilità, col tuo essere donna, col tuo essere uomo, con questa tua centratura, mi viene da dire, riuscirai nel tuo intento amoroso, che sia una persona che conosci o una persona che aspetti. Naturalmente per fare tutto questo ci vuole una grande fiducia. Quindi molti di voi aspettano qualcuno di specifico. Specifico può essere anche nel futuro, comunque, specifico o una personalità specifica. Quello su cui qui mettono l'enfasi, le carte, è proprio comunque una bella relazione, una bella intesa. Quindi adesso io voglio vedere i segni, diciamo, che ti arriveranno. e voglio proprio vedere i segni e i numeri, i segni che ti arriveranno per dirti che sei sulla strada giusta. Allora, adesso io tiro fuori dei segni zodiacali. Questi segni zodiacali tu li dovrai guardare, sia come segno tuo, come segno della persona a cui pensi, ma anche, oltre all'ascendente, naturalmente, alla luna, anche la venere, soprattutto per questa stesa che è il pianeta dell'amore. Quindi, come dicevo prima, appunto, tu puoi essere, per esempio, di un segno e avere la venere in un altro segno, che poi non si sposta più di 60 gradi, quindi puoi averla nei segni vicini, e quindi anche la persona a cui stai pensando. E quindi è facile reperire la venere, che è il pianeta dell'amore. Quindi tu puoi essere, appunto, un cancro e avere, per esempio, la venere in gemelli o la persona a cui stai pensando. Allora, il primo segno che viene è lo scorpione. Quindi qui potrebbe essere, come ho detto, anche la venere in scorpione, oltre al segno zodiacale, ma questo segno potrebbe essere anche una persona che ti fa vedere qualcosa o che ti presenta qualcuno o che ti aiuta in qualcosa. Ecco, questi sono segni che rappresentano delle persone. Ecco, qui abbiamo un gemelli. Rappresentano delle persone oppure potresti anche vedere improvvisamente qualcosa, camminando qualcosa che ha a che fare con lo scorpione, e con i gemelli anche, comunque. E la bilancia. Quindi abbiamo un segno d'acqua e due segni d'aria. Ecco, questi sono i tre segni. Adesso ti do anche dei numeri, sempre per vedere i segni che ti anticiperanno che sei sulla strada giusta. quindi un tre. Adesso ci metto un altro numero. E un quattro. Quindi abbiamo il tre, il quattro, e quattro e tre, il sette. E il sette. Quindi questi sono i segni che ti anticiperanno che sei sulla strada giusta. Adesso io vado a prendere la vibrazione precisa anche con queste carte bellissime. E quindi la vibrazione precisa di questa sorpresa e il pianeta. Cioè, incominciamo a vedere come e come cosa accade. Allora, la vibrazione, vedi che riguarda tutto te, riguarda proprio la tua anima. Ma riguarda anche qualcosa che ha a che fare con l'anima di questa persona. Quindi qui questa stesa si concentra appunto sull'amore. Quindi ti vuole dare questo messaggio che qui c'è una persona che arriva e che vuole, come abbiamo visto prima, una relazione. Ma qui c'è qualcosa di animico, molto profondo. Prima infatti c'era l'enfatizzazione sulla spiritualità. Quindi è qualcosa di molto profondo quello che ti sta diciamo arrivando. Vediamo il pianeta. Il sole. Il sole, già nei tarocchi, rappresenta anche la carta, diciamo, anche della relazione per eccellenza. Quindi qui si parla proprio d'amore. Quindi anche qui il sole, in questo caso, io l'ho preso come pianeta. diciamo, qui abbiamo tutti i pianeti, rappresenta proprio anche qui, naturalmente, rappresenta anche delle caratteristiche, delle peculiarità, no? Di una persona che per esempio potrebbe essere solare, potrebbe essere generosa, potrebbe anche avere degli aspetti magari non sempre solari, il contrario del sole. Ma visto che le carte qui parlano di spiritualità, di anima, direi che la vibrazione, diciamo, precisa di questa sorpresa è proprio, si rifà, come sta dicendo, un po' tutta la stesa, a una relazione bella, vera, con una persona solare che non nasconde le cose, no? Quindi una persona anche generosa, di cuore, che può essere anche impulsiva le volte, no? Però, che gli piace anche vivere alla luce del sole. Ecco, quindi chi ha magari una relazione nascosta sarà il momento che non avrà, non sarà più nascosta, perché qui ci sono delle grandi possibilità. Io vi dico che se volete realizzare qualsiasi cosa dovete avere sempre fiducia, energia ed entusiasmo, perché se no le manifestazioni non avvengono, non può avvenire una manifestazione se noi siamo sfiduciate, quindi qui ti dicono che da te sta nascendo questa cosa, come dicevano all'inizio, è proprio da te che uscirà fuori questa energia. Sì, arriverà anche dell'energia dall'esterno, ma soprattutto qui la tiri fuori tu, quindi tira fuori la tua massima bellezza, la tua solarità. Andiamo a vedere proprio adesso che cosa cambierà per te. Quindi, andiamo a specificare bene anche, vediamo se ci parlano e ci dicono qualcosa di più su questa persona. Beh, qui abbiamo a che fare con una tua nuova personalità, no? Tu prima sei sempre stata un po' una persona che ti facevi condizionare, adesso non ti fai più condizionare per quanto riguarda le cose amorose, diciamo. Quindi, qui tu a un certo punto comunque dicono che cosa cambia per te. Cambia che riuscirai a realizzare proprio una famiglia anche un po' originale, qui dice, Perché questa è la carta dell'anticonformismo, quindi un po' originale, lo sai tu perché, no? Un po' fuori dalle righe, potrebbe essere sopra le righe anche, no? Un po' diversa. E comunque ci sarà, come d'altronde qui dice l'energia del pianeta, del sole, quindi ci sarà anche molta passionalità in questo, non è solo tutto spirituale, quindi ti vogliono dire che la tua passione di fondo non sarà messa da parte, il fatto che ci sia spiritualità vuol dire anche che ci sia un'intesa di anima, vuol dire anche che appunto che ci sarà molta intesa e quindi secondo me ci sarà molta intesa anche dal punto di vista fisico, quindi che cosa cambia per te? Che secondo me ti sentirai un po' più sicura o sicuro di te, un po' da tutto quello che dice la stesa, proprio perché finalmente tirerai fuori il tuo vero io, che fino adesso è sempre stato mi viene da dire nelle questioni amorose un pochino sottomesso qui abbiamo comunque una persona mi descrivono un po' questa persona che non solo ti vorrà molto bene avrà questa intesa con te ma sarà anche una persona che ha delle conoscenze precise, particolari, potrebbe essere appunto una persona che ha una cultura specifica oppure che ha un mestiere specifico ha molte conoscenze a te piace molto quello ti piacerà molto il lavoro di cui si occuperà o l'obbby che avrà questa persona sì mi viene da dire che potrebbe essere una persona molto creativa che illumina la tua creatività a sua volta è quindi una persona che ha molta fantasia ed è anche mi viene da dire una persona che tu hai sognato tanto una persona che tu hai agognato tanto ecco e comunque ti farà sognare ricordati sempre di essere ottimista che anche le cose brutte del tuo passato debbono essere trasformate in energia nuova in energia positiva perché se tu guardi il tuo passato e lo guardi dicendo che cosa mi ha insegnato questa cosa e ti dai una risposta bella positiva tu entri in questa vibrazione per realizzare questa cosa bellissima questa sorpresa bellissima di cui ti stanno parlando queste carte hai sempre timore qui dicono e qui ti fanno un po' crollare il sogno hai sempre timore che la persona che incontri sia ambigua lascia andare le tue credenze sulle persone sul passato è vero probabilmente hai incontrato delle persone ambigue o che non ti hanno non sono state chiare con te ma adesso qui c'è l'enfasi proprio sulla solarità quindi sulla chiarezza sulla sincerità quindi non portarti queste credenze perché se te le porti vibrerai a queste credenze quindi apriti con un sorriso a quello che ti stanno dicendo naturalmente poi sei tu che che ti ispiri nella tua manifestazione a questo quindi qui di nuovo dicono che questo sogno può essere turbato solo diciamo dai tuoi ricordi e dai tuoi ricordi o dalle tue credenze se tu pensi che appunto le persone che hai incontrato sono ambigue e non hai fiducia nella sincerità è ovvio che tutto questo sogno può anche accadere ma poi dopo un po' incomincerà a crollare perché tu hai diciamo paura e le paure fanno avverare le cose hai paura che sia un sogno troppo bello per essere vero e quindi queste paure fanno sì che che si avverino purtroppo funziona così la legge della manifestazione noi manifestiamo dove mettiamo attenzione quindi se tu hai molte paure è facile che queste paure poi si manifestino quindi credi al tuo sogno perché ricordati che questo sogno è proprio dentro di te quello che dicevano all'inizio questo sogno d'amore è dentro di te solo tu puoi dargli il via a questo sogno ciao carissimi io e carissime io vi ringrazio dell'ascolto a risentirci a presto ciao a tutti